Tu sei Jimmy, giusto? È casa tua? Sì, proprio così. Sono il signor Wolf. Risolvo problemi. Ah, bene. Ne abbiamo uno. Me l'hanno detto. Posso accomodarmi? Ah, sì. La prego. Entri. Tu devi essere Jill, perciò tu sei Vincent. Veniamo subito al sodo, signori. Se sono stato informato correttamente, le lancette volano. Dico bene, Jimmy? Al cento per cento. Grazie a tutti.